Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video qua alla Siberia Arena Siamo qua per vedere la prossima partita che sarà la prima ovviamente delle due partite che abbiamo oggi Quella con HC Rivers contro Burdorf E siamo qua con il nostro Alessandro Chinelli giustamente Buon pomeriggio a tutti Ciao Ale Ovviamente c'è anche Axe Padernica là dentro Lo vedremo dopo Postazione là Ve la farò vedere dopo che vedrete meglio ragazzi Quindi andiamo adesso a scaldarci un attimo A dopo Eccola vi presento la macchina pulisci ghiaccio della Siberia Arena con tanto di cabina e bandiera da pirata Eccola lì E c'è sto arco qui che dà un po' fastidio ma vabbè Sta ricominciando quindi a fare la pista, a rifare il ghiaccio Macchina pulisci ghiaccio della Zugo C'è la pronuncia in tedesco ragazzi con tanto di cabina Molto bella si Faccio ad esempio il nostro Alessandro Chinelli Viato di spalle Ale Che sta facendo L'elenco dei giocatori Attenzione qualcosa si vede già Burdorf ragazzi Non so se sono già effettivi Magari posso già leggerveli Com'è Joshua Molet Leo Charer Dominic Gache Sven Gache Jen Kaffer Michael Reber Andri König König Timo Stöver Sivani Lars Meyer Ives Schaffer Jan Gessi Basri Un numero uno Essa Mika Mika sembra dire da cantante E numero 40 Ashimra Jan Portiere Head coach Kobel Bitter E Rzucker Ma Zahwe Tra la formazione del Ma lo sappiamo chi dei due Perché quelli è l'elenco generale Io devo toglierne uno dei due Ah L'ho chiesto ad Axel E sta arrivando con il foglio partito Ecco Dopodiché posso salvare le immagini E prepararle per le grafiche dell'inizio del anno Sì Ciao Axel Ciao L'arbit Il capitale Allora Formazione dei Rivers Numero due Saglini Nathan Numero nove Leoni Zeno Numero undici Piezzi Tommaso Numero quattordici Zoppi Perché ha Zoppo Vabbè Quindici Gazzaroni Noah Sedici Stainer Asian Diciotto Bettazza Una bella tazza Certo Ioan Diciannove Richina Jonas Ventuno Dazio Dazio grande Gioele 25 Frigerio Nathan 25 Maffi Sì Certi Maffi Christine 50 Dado Samuele 60 Franzoni Elia 88 Scolari E certo Sono i scolari 25 Frigerio Nathan Nel portiere E numero 30 Laudicina Andrea Let coach Il signor De Luca Paolo Arbitri Nella partita I signori Aneke Orlandini E Luca Molone Grazie Ecco lì Quello che si vede Dalla telecamera Rivers Burdorf Axel Paderni È pronto E Alessandro Chinelli Anche Giusto Ale Sì Anch'io sono pronto Ragazzi Forza Rivers A questo punto E Vabbè Ci vediamo dopo Ciao ciao Termine del Primo periodo Burdorf 2 Rivers 0 Vediamo Il giocatore Numero 26 Che Ancora Ha qualche Minuto Di penalità 53 secondi Ancora Termine di questo Primo quarto Di gioco Sempre qua Dalla Siberia Arena Pista Pista di Ascona Eccola qua Un momento Un momento della pausa Parla Parla tanto Parla tanto Parla tanto diciamo Che il nostro Alessandro Ha molto da dire Io invece purtroppo Non ho niente da dire Ragazzi Perché devo Devo pensare solamente a filmare Ma vabbè Comunque noi Quindi proseguiamo Con la nostra Diretta Sempre su Swiss World TV Scopritele di più Ragazzi Mi raccomando Andate a seguire Swiss World TV Perché È un canale Che Veramente Dà grandi Soddisfazioni Ci vediamo dopo Eccoci sempre qua Allora Termine del Secondo Quarto Mi ha salutato Prima l'autista Ragazzi Nella Pulisci Ghiaccio Sono riuscito a salutarlo E rimasto salutato Quindi Tante emozioni Questa partita Perché Cosa c'è Ale Ma di anche che hai salutato Il mister Della squadra Del Locarno È vero Che giocherà la partita successiva Ho venuto qua A salutarci E a darci anche Informazioni Sulla propria formazione Che giocherà Nella prossima gara Nella prossima gara Esatto Pensavo che Fosse lui Il cameraman Che si stia vicino Ma è invece No Non sempre io Il fashion style Il cameraman Ragazzi Non ho io Puntincio Tanto che vede 7 a 1 Facciamo così Che è meglio Perché Se sto lì A inquadrare Anche il tabellone Che non lo vedo neanche 7 a 1 Per il Burdorf Eh si ragazzi Tanto si impagni La bandina Della Dei pirati Eccola Si è messo anche a fuoco Si A fuoco O a ghiaccio Non lo so Ha fatto la battuta Ha fatto la battuta Ragazzi Ha fatto la battuta Ho fatto la battuta Ho fatto Tanto si sente Santana sottofondo Vabbè Diciamo che Sempre qua Dalla nostra postazione E della telecamera Appoggiata sul gradino Praticamente L'altra che inquadra Il tabellone Noi siamo pronti Per questo terzo E ultimo Periore di gioco Vedremo Che avrà meglio Benvenuti Alla prossima Partita Di Ok su ghiaccio La seconda Sempre qua Dalla Siberia Arena Con praticamente L'HC Locarno Contro Tourzee Quindi eccoci qua Sempre la Siberia Arena Postazione Cameraman Telecamera principale Ho praticamente Ragazzi Cambiato i due Cavalletti Mi sono messo io Quello Quello migliore Diciamo che ho messo Quello un po' Più duro Per Il Tempo Sempre il nostro Alessandro Chinelli Postazione Qua sopra Il nostro Ale Aca Ciao Ale Ciao Avete sentito ragazzi Ciao E lì sotto C'è il nostro Axel Paderni Telecronista Questo Sta parlando Con Qualcuno Pronti Quindi per Filmare Sempre in diretta Su Swiss World TV Questa Seconda Partita Di oggi Punteggio Anche qua Inchiodato Solo 1 a 0 Prima ha vinto Ragazzi Il Burdorf Con la Squadra Squadra Ospite Qui adesso abbiamo I locali Quindi i Cigni Cigni del Lago Maggiore Praticamente Come ha denominato Il nostro Axel Paderni C'è sempre La macchina Che rifà il campo Con la mitica Bandiera da pirata Certo che ragazzi E' molto bella E' sta macchina Con Con tanto di cabina Puntendo sempre Inchiodato Su 1 a 0 Si va sul Secondo Periodo Di gioco Sempre insieme Anche ad Alessandro Chinelli Vamonos Alessandro Nella bellissima Cornice Della Ascona Arena Siberia Praticamente La Siberia Arena Ragazzi Fa un frecce qua Veramente frecce Vabbè Continuiamo Con la partita Lascio il passaggio Della Macchina E ci vediamo Dopo Beh intanto qua Il punteggio 3 a 1 C'è stata una discussione Che non è Più finita Ragazzi C'è veramente Una discussione Che ci ha fatto Rimanere tutti Con il fiato Sospeso C'è Alessandro Chinelli Giustamente Che Alessandro Chinelli Axia Che vogliono Magna Giustamente Perché Qua il punteggio 3 a 1 Intanto La discussione Prima è C'è È scattata In un litigio Ragazzi È scattata In un litigio Praticamente Si sono Si sono messi Proprio A litigare Ragazzi Abbiamo visto Un litigio In diretta In pratica A questo punto Direi che ci vediamo Ci vediamo dopo Ragazzi Chi l'avrebbe mai detto Ragazzi Chi l'avrebbe mai detto Overtime Overtime 4 a 4 Raga Extra time Overtime In questo caso Extra time Overtime In questo caso Overtime Vabbè 4 a 4 Speriamo che Vinca Locarno Ragazzi Dunque ragazzi La partita Si è chiusa Con un bel punteggio Di 5 a 4 A favore Del Locarno Ragazzi Quindi La vittoria È arrivata Subito Subito Quindi Ringraziamo Tutte le squadre Ringraziamo Veramente La scona Siberia Arena Di averci Accolto qua Da 98 E da Alessandro Chinelli Ed ovviamente Tutto il team Di FilmworkTV È tutto Noi ci vediamo Domani Con la partita GDT Bellinzona E dopo E dopo Beh Ci sono due partite Che sono state in dirette Due dirette Giustamente domani Perché la prima partita È registrata Su Siperio Qualcosa del genere No no Su Spideo 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 Ok Dai Chiudiamo qua ragazzi Commentiate Anche se Iscrivetevi al canale E con un video Molto importante Attivate la campanella Nelle notifiche Ciao ciao